Il porto di Taranto recupera traffici e consolida l'inversione di tendenza rispetto ai risultati negativi del 2010. Il primo semestre di quest'anno registra dati positivi in tutti i settori. Lo scalomerci vede il ritorno della movimentazione dei container e segna un più 17,5%, frutto di un ottimo secondo trimestre rispetto al primo, che era stato già buono. I container transitati in entrata e in uscita dal molo polisettoriale sono stati 338.923, un trend che lascia sperare in un traffico che potrà toccare i 700.000 container a fine anno. Le merci trasportate nei contenitori hanno fatto un balzo pari al 42,7% in più, superiore di un terzo all'incremento avuto dalle merci varie, il cui volume è cresciuto del 27,8%. In sei mesi sono arrivate 2.185 navi, un aumento pari al 16%. A fine anno saranno verosimilmente quasi 4.500. Sono tutti segnali confortanti per uno scalo marittimo, quale quello tarantino, destinato ad andare incontro al miglioramento e al completamento delle infrastrutture grazie ai finanziamenti cipie finalmente sbloccati e alle risorse del protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente. Consentiranno questi soldi di realizzare nei prossimi anni strade, collegamenti e opere a mare che metteranno il porto di Taranto nelle condizioni di competere con gli altri scali del Mediterraneo e di aspirare a diventare un hub centrale per i commerci internazionali. Le rinfuse liquide nei primi sei mesi, cioè il greggio in entrata e i prodotti finiti in uscita dalla riffineria Eni, sono aumentate del 26,2%. Quelle solide, prevalentemente legate al ciclo della siderurgia, sono cresciute del 9%. Grazie a tutti.